buongiorno 19 giugno 2021 la nuova calabria itinerante nei nei orti negli orti biologici naturali dei nostri contadini calabrese che nonostante tutte le difficoltà vanno avanti e coltivano gli orticelli le loro terre e le tengono cura come bisogna tenere cura alla terra e oggi siamo sempre sulla costa ionica catanzarese siamo qui con con mimmo un nostro un nostro un nostro agricoltore chilometri zero che da una vita per passione diciamo coltiva la terra e produce degli ottimi prodotti le volevo chiedere due tre cosette per essere dico e in queste in queste diciamo realtà moderna diciamo delle culture varie che ci sono lei riscontra delle anomalie o delle differenze nelle culture rispetto al passato molte molte differenze prima di tutto malattie mai viste almeno per quanto mi riguarda per quanto conosco io l'agricoltura e più questi insetti insetti che sono arrivati da molto lontano come messico brasile oppure cina non lo so però insetti che quando li conoscevamo mai mai visto con questo insetto si rovina tutto oltre a questo c'è come l'ambiente la temperatura è tutto cambiato un pochettino un po diverso di di allora di 50 anni fa diciamo il ciclo il ciclo naturale non è come sempre i tempi di cultura i periodi si anche 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 come periodo e anche come per esempio fioratura degli alberi delle frutte io ho visto tante differenze mai viste in vita mia io ho 70 anni anche di più mai visto queste cose tipo tipo sull'albero della frutta si è modificato un po il sistema diciamo si il sistema come insetti ripeto insetti che è la rovina dell'agricoltura delle piante di frutta specialmente e poi come ambiente diciamo come si dice come possiamo dire l'ambiente come viene adesso come l'ecosistema diciamo si l'ecosistema si io ho visto per esempio nel mio orticello c'è due alberi pesche che sono fioruti e fioriti in due in due tratti una volta la metà per esempio lo stesso albero è fiorito 15 giorni prima la metà 15 giorni dopo la metà ho visto può pensare che diciamo nel sottosuolo la pianta la pianta tinga diciamo i vari minerali in maniera di penso che il sottosuolo ma nell'aria 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 è stata nell'aria è cambiata qualche cosa non è pura un tempo la c'è un maggiore inquinamento e anche io penso che è proprio quello l'inquinimento che porta queste quest'anno diciamo sulle sulle colture diciamo sui pomodori che lei ha visto che ha diverse qualità di pomodori ho visto una miglioria rispetto all'anno scorso di fronte l'anno scorso ho visto abbastanza mi piace molto di più non ci sono diciamo l'anno scorso mi sembra che l'abbiano molte molti insetti giusti un insetto che è proprio un insetto pericoloso che punge direttamente il frutto la pianta e poi si rovina tutto bisogna buttare tutto il pomodoro si fa che l'anno scorso l'anno scorso erano venuti hanno visto un tappeto rosso di pomodori che ci doveva il cuore tutti i pomodori puntati bucati colmato marciti è una piccola farfallina che è più piccola di una zanzara però è proprio per gli ortaggi amici ideali specialmente particolarmente per il pomodoro proprio amici ideale che si forma un bruco dentro il pomodoro e poi ho visto anche quest'anno sui suoi alberi da pesca che ha diverse qualità c'è la tabacchiera che l'ho vista in ottima forma mi pare sì 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 e poi c'è l'altro tipo qualità l'altro che è un tipo che si chiama fior di maggio quello l'ha preso un insetto e ha rovinato anche la pianta e quindi voglio dire si elimina la produzione e quello che c'è non è non è tanta buona non è buona come cresce un po' malato un po' diversa però certo uno non può stare addosso con i veleni prima di tutto che già l'aria è avvelenata per sé e mettendo ancora roba di veleni sull'agricoltura sulle piante nello sfondo nell'intervista c'è il canto del gallo delle galline che sono qui che sono tutti quanti in uno bello spia ecco lo sentite l'abbiamo citato sono qui tutto a terra che vanno a a zizzanare di qua di là a beccare qualcosa in nutrimento tutto il naturale naturale non intensivo ma tranquillo e rilassati quindi va bene io la salute la ringrazio ancora per l'ospitalità continuate a coltivare a coltivare i nostri terreni che ne hanno bisogno hanno bisogno di essere diciamo tutelati controllati e poi producono questi prodotti a chilometri zero naturali naturali senza pesticidi e senza niente va bene la ringrazio ancora ringraziamo anche il signor gallo che ci saluta anche lui dalla costa ionica catanzarese un saluto la nuova calabria gempiero daverniti